Questa polemica politica si sta trascinando, fin dove volete arrivare Salvini ha detto che a un certo punto dovete fermarvi, dovete tapparvi la bocca. La vicenda politica secondo me è andata avanti fin troppo perché le dimissioni dovevano arrivare certamente prima. Dovevano arrivare prima per tutelare le istituzioni e per tutelare il governo che se vuole continuare a portare avanti un cambiamento positivo nell'interesse della gente non deve avere alcun tipo di ombra. Purtroppo Siria ha bisogno di un tempo per difendersi ma purtroppo per lui non lo può fare all'interno di questo governo. Io spero che per mercoledì ci sia un suo passo di lato, chiamiamolo un passo indietro, per evitare che ci sia un'inutile conta in Consiglio dei Ministri che, ripeto, come ha giustamente detto Vice Premier Di Maio, vede il Movimento 5 Stelle con la maggioranza. Una conta per voi sarebbe equivalente a quasi un inizio di una crisi da questo punto di vista? Ma andiamo avanti, abbiamo un sacco di cose da fare. Il responsabile dell'azione collettiva del governo è il Presidente del Consiglio, Conte, che ha preso un'iniziativa. Conte rappresenta il governo in punta di Costituzione. Non ha preso un'iniziativa spinto dal Movimento 5 Stelle. Lui rappresenta l'unità e sa perfettamente, ma lo sa anche Salvini, che la tenuta di questo governo dipende dal fatto che questo governo non abbia alcun tipo di ombra. Per essere diversi dagli altri bisogna fare le cose diverse dagli altri, non dirle a voce. Avvisato Siri prima di togliergli le deleghe così, lei l'ha sentito prima? Sì, 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 confermo assolutamente. Ho chiamato personalmente, abbiamo fatto una lunga chiacchierata al telefono, non era al mito altrimenti l'avrei ricevuto di persona. Lui deve avere la responsabilità della continuità del governo, vada a tutelarsi, dimostri di essere innocente. Lo riaspettiamo a braccia aperta all'interno del governo, ma non blocchi l'iniziativa di un governo che è nei fatti diverso dagli altri. Per voi un voto contrario eventuale della Lega in CDM sarebbe come sconfessare Conte di fatto? Ma io lo commenterò laddove dovesse avvenire, finché non avviene è del tutto inutile.